Senti, a proposito di incontri professionali con registi, ecco, con Vicari hai fatto il tuo primo film e appunto, come già detto, Diaz e anche questo sole, cuore, amore che ti ha dato questo riconoscimento e questo premio. Ci sono stati altri incontri importanti? Registi? Sì, in qualche modo hai avvertito che ti hanno fatto crescere nel tuo percorso professionale? Sì, soprattutto diciamo, avendo fatto la prima parte di professionale, avendo fatto molto teatro, ci sono dei registi di teatro a cui sono molto legato. Uno è Mario Missiroli, l'altro è Peppino Padroni Griffi e Ronconi, insomma, devo dire, questi sono i tre che mi hanno dato qualche cosa che ho sentito che avrei fatto, diciamo, un gradino in più. E poi Vicari, senz'altro, nel cinema, Daniele, cioè girare con lui, a parte che lui è un regista che ti fa subito sentire la sua fiducia, il che per un attore è qualcosa di fondamentale. E poi i film che fa sono dei film che ti danno una motivazione più forte rispetto agli altri film che possono essere film di finzione, bellissimi, artisticamente pregevoli. Però, insomma, con Daniele ti senti di far parte di qualcosa di importante, che rimane. Infatti, ad esempio, Diaz è un film che rimane. Tra l'altro sarà presentato anche qui al B-Fest nei prossimi giorni. E un altro incontro fortunato dal tuo punto di vista, credo che sia stato quello con Smetto quando voglio. Sì, sì, con Stedini. Esattamente. Sì, di Sibiria è un fulmine di guerra. È un ragazzo giovane che ha un'esperienza e ha una perizia che io trovo, io, cioè, mi sbalordisce. Cioè, è giovane, è proprio molto giovane. Sembra che abbia le ore di volo di un veterano. E mette su anche delle inquadrature molto difficili. Non so se chi ha visto la seconda parte di Smetto quando voglio, Masterclass, c'è l'inseguimento del treno, che è qualcosa di fantastico. Insomma, fatto da un ragazzino, tu lo vedi, giovane, brillante. Ha veramente dei grandi numeri, secondo me, Sibiria. Ed è curioso il fatto che Masterclass sia stato girato contemporaneamente a un terzo episodio della serie. Su cui non posso dire e non dirò nulla. No, no, non vogliamo sapere. Ecco, ma l'esperienza di girare, come dire, due film in uno, in una volta sola, cambia qualche cosa nel lavoro di un attore? No, dal punto di vista dell'attore no. Dal punto di vista di produzione penso di sì. Però, no, in realtà no. No, no, no. Quando non ti accorgi neanche che quella scena sarà sul terzo, no, perché tanto poi il personaggio è lo stesso. Quindi tu devi fare quel lavoro lì di, diciamo, dar vita a questo personaggio. Poi dove lo metti, lo metti. A me, a me non ha creato nessun problema.